ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty cioè raga Call of Duty Advanced Warfare tanta roba signori appena comprato come ho detto sulla pagina facebook l'avrei comprato infatti signori eccolo qua ammaggio ammaggio allora si baffanculo allora come vedete wow che bel che bel che bel kebabbaro che abbiamo signori questo bel kebabbaro comunque allora devo dirvi queste cose ovvero prima come vedete ho preso Call of Duty quindi ho speso i miei bellissimi 35 euro quant'è di pay poi seconda cosa ragazzi che voglio farci una bella serie sopra ditemi se vi va tipo una road to commander no una roba simile dove comunque giochiamo insieme le prime partite quindi sì fino al massimo livello del prestigio quindi non so quant'è in questo Call of Duty dovete sapere che ero veramente un giocatore molto bravo su Call of Duty Modern Warfare 2 Black Ops dovete sapere che non so se lo conoscete Jack D.Pic ma dovete sapere che appunto giocavo con lui eravamo amici bla 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 quindi comunque ero di un certo livello signori cioè giocavo con gente seria e nulla però non gioco più da anni a Call of Duty quindi what the fuck però quest'anno ho visto delle novità molto interessanti quindi ho deciso di di giocarle insieme a voi boh raga inizio con Deathmatch a squadra proprio così proprio una casa merda proprio vaffanculo guarda ci andiamo e basta ma tipo bianco non posso farmi raga come che mi faccio forse personalizzazione completo due com'è ah raga posso fare tutto quanto posso fare il mio che babbaro di fiducia qua capito dicevo l'ho comprato perché ragazzi devo sapere che assomiglia molto a Titanfall Titanfall l'ho provato mi piaceva molto devo dirvi che mi è piaciuto veramente tanto e ah cioè posso pure guardare i giocatori che figo posso capire anche il loro equipaggiamento quindi figata ma ci mettiamo tanto raga se no cambio modalità comunque l'ho preso perché appunto assomiglia a Titanfall quindi ci sono i doppi salti c'è la possibilità di schivare quindi boh ragazzi c'è strategia in più finalmente cioè hanno finalmente modificato qualcosina vediamo se mi garba ragazzi vediamo se mi garba vediamo se ho fatto un bel acquisto perché non lo so però ragazzi se qua non mi trovate i giocatori eh raga io io ne esco sì vaffanculo troviamo un'altra andiamo sempre a deathmatch a squadra perché non è proprio una easy per iniziare perché non sono quelli di prima vero vabbè o Horizon o Defendra posso anche votare la mappa come in Black Ops eccetera eccetera direi boh boh casuale raga casuale ci sta ma possibile che c'è così poca gente su Steam ragazzi perché addirittura adesso non mi trovo le partite oppure aspettate un attimo boh raga io vado su dominio vado sul buon vecchio dominio vaffanculo non è la sua parita trovata ma no raga seriamente non trovo neanche una partita what the fuck vabbè raga ce la fa sopra lì ho trovata raga è incredibile è incredibile ma sì allora fermi tutti come faccio gioco online trovo la partita è possibile che ci vuole così tanto tempo per trovare qualcuno che gioca questo benedetto gioco oh mio dio cioè questi qua sono quelli di prima ragazzi what the fuck ah ok è entrato qualcuno comunque ragazzi un'altra cosa che volevo fare era la DNA Bomb la chiamerò Pise Bomb perché è un nome molto più figo Pise Bomb cioè raga Pise Bomb è veramente stupendo a parte no ragazzi guardate gli occhi di questo gli occhi del che babbaro ci dicono proprio mmm mo ti prendo e ti sculaccio mmm è molto molto fiero comunque vaffanculo raga facciamo così ci vediamo quando trovo la partita e vaffanculo bene signori eccoci qua allora si sta caricando mo' la partita a una velocità proprio speedy lol comunque bio lab quindi bio laboratorio va bene vediamo i consigli che ci danno con ricarica lampo puoi ricaricare più in fretta ma le munizioni i caricatori in uso si riducono capito vabbè comunque ci sono tutti quanti perca raga come tutti i call of duty comunque ragazzi ditemi che ne pensate di questa idea ovvero del di questo road to command oh mio dio si inizia signori si inizia comunque vi volevo dire allora prima di tutto ditemi com'è l'audio cioè non vorrei che l'audio sia troppo alto del gioco e magari non si sente la mia voce ditemi che ne pensate dell'audio signori se devo abbassarlo mio dio ma ormai che si veda così raga oh signori si inizia con lo kill si inizia con lo kill e signori si parte la grande signori 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 lo scotto raga troppo fighe si doppi salte c'è chi su c'è qui qualcuno chi c'è qualcuno raga no raga sto call of duty mi sa di oh 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 signori e c'è la 2-0 e c'è la parte alla grande su questo nuovo call of duty signori ok vedo dai là dei personaggi cattivi vedo là oh oh no no raga gilla 3-1 raga gilla parte la grande raga gilla parte la grande raga e gilla è carichissimo gilla c'è i muscoli gonfi per sto call of duty signori si parte la grande attenzione no pisa mueta cos'è quel laser che cazzo è cos'è cosa mi rappresenti tu ma cos' che atto quanto ho piccolo a fare mi ha mi ha colpito raga due secondi ma raga mi sta laggando o che cosa il ping ce l'ho buona si non è che sono gli fps cioè raga c'è un john computer della madonna ma in più non mi do una cazzata ma questo monitor che ho adesso ha una risoluzione di merda quindi non dovrebbe neanche pesare così tanto cioè c'è una risoluzione del cazzo che più è giusto con Sony Vegas ragazzi però oh quello l'hai volato via raga che figata è volare cioè qua in questo call of beauty ragazzi possiamo veramente non morire se ci prendono le spalle secondo me ci sono tu mi devi morire tu mi devi morire no raga qua ho fatto schifo io la sensibilità mi piace non lo so ragazzi non so se questa sensibilità me la tengo oppure l'aumento devo capire bene se riesco a giocarmela bene dove volano? che cos'è? non muore oh tu devi morirmi però questo raga è OP raga ve lo giuro questa cosa laser è troppo forte a parte che ho mirato a merda quel tizio mi devo abituare al mouse signori perché io ho giocato sempre su PS3 oh mio dio guardia io sono incurato non mi vedono ma perché mi sto perché sto laghicchiando raga io non vorrei che veramente pesasse così tanto questo gioco ragazzi avete visto il trickshot ragazzi mi sono parato di lato non so se avete visto guardate guardate cioè fighissimo ma quanto tempo ci mettono a ricaricare questo lo devo capire cioè il loro tempo di ricarica quindi vale la pena buttarli così alla cazzo di cane oppure bisogna giocarsela bene oh oh mi puoi succhiare il pise me lo puoi proprio guarda mangiare guarda puoi proprio mettere nella bocca raga che cazzo sta facendo questo qua fa proprio parkour oh no no raga raga qua sono fuori di testa ragazzi io qua non ci credo un secondo signore che devo vedere una cosa un secondo ok allora io non vorrei che mi stia laggando cioè è impossibile che mi lagga sto pc raga se lagga su sto pc immagino quelli che hanno un pc medio quello fermo così proprio un sacco di patate puoi mangiarmi proprio la minchia guarda puoi proprio succhiarmi la cappellona puoi proprio guarda porco ragazzi comunque se ogni tanto tiro qualche porco gesù cioè capitemi è call of duty signori ho fatto una cazzata ho fatto una cazzata signori non devo buttarmi lì no dicevo se ho queste reazioni cioè perdonatemi non mi dite zilla ma bestemmi troppo e dovete capire che capita a tutti toh raga camper mod ragazzi camper mod no vabbè così esageratissimo perché io ho sdraiato lì sporco proprio no no raga mi è arrivato un messaggio e non ho guardato ragazzi cosa sto facendo 12 12 8 mi sto scrivendo anche su facebook e non c'è però chi mi ha scritto su facebook lo giuro vedete sapere ragazzi che mi state oh 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 fai bene oh oh è dietro signori è dietro è dietro no no raga aspetta un attimo signori mo guardano insulto quello che mi sta scrivendo su facebook è proprio ah no è slatti è slatti no signori slatti mi ha detto che mi ha copiato no raga è pise bomb è mia cioè vi spiego ragazzi c'è slatti che vuoi fare la serie road to pise bomb ma è mia signori cioè pise l'ho inventato io dai ci mancherebbe pure che slatti me la frega diciamoci il vero diciamoci il vero pise bomb è mia cioè ragazzi scrivete nei commenti dite io pure slatti andate a dirglielo nel suo video te e il tuo laserino sporco oh ho fatto la double ho fatto la double ho fatto la double proprio la sporca no raga costo laser tu mi hai proprio rotto il cazzo tu mi hai proprio rotto il cazzo costo laser tu lo devi ficcare dove ti dico io te lo devi ficcare comunque signori per adesso è abbastanza bene siamo oddio signori signori quanto sto facendo no che cazzo è successo no allora ok oddio quello con laser mi ha rotto il cazzo sto facendo 19.9 signori no porco la bomba raga la bomba mi ha ficcato era una granata cos'era mi è venuta a prendere un buzzoper raga non so cos'era è solo tanto che mi ha distabilizzato signori non ci credo dai avevo il vantaggio io siete seri signori poi perdo il mio ratio perché faccio alt tab senza volerlo perché allora raga devo togliere un'impostazione che devo se premo tab dopo di che si toglie non so se avete capito se io premo tab mi rimane impresso lì la cosa di tab e la voglio assolutamente levare ragazzi troppa roba signori zilla grado 5 signori si parte benissimo sta partita si parte benissimo stiamo pure perdendo chi è? chi è lo scarsone che mi fa perdere? guarda che squadra di sporchi che raga comunque ragazzi se volete aggiungermi su steam non c'è proprio problema su steam non è come su goal che ho raggiunto il limite degli amici quindi potete aggiungermi in quanti volete sono zilla c'è il solito zilla signori 4a cacca grande l swag signori non c'è più neanche un nemico dove sono finiti i cattivi dove sono i birbanti dove siete no ragazzi dove sono ragazzi io li ho persi ragazzi io li ho persi comunque sto dicendo raga che è il pise pise bomb è mio signori è mio quello non voglio sentire né sene ma no raga ma com'è ma com'è avevo il vantaggio ma qua il vantaggio proprio non lo guardano cioè io qua io prendo due colpi e li uccisco ma dove cazzo è su camminaminchia su camminaminchia raga con il salto swag zilla risolve tutto ecco a posto a posto l'ho detto signori l'ho detto quanto manca cioè quanto dura una partita simile sta durando veramente tanto raga ma troppo troppo il che non è un male signori ok ok questo è morto ok io faccio andare avanti lui eh perché questo è un posto brutto no raga io me ne vado da qua quello secondo me è il posto qui ragazzi è lì no vabbè raga signori la partita è finita 75-69 abbiamo vinto raga ho fatto la mia prima triple kill proprio easy easy triple feed e nulla ho fatto 24-15 3 assist direi che come prima partita ci può stare anche se volevo avere un ratio più alto sono quello che ho fatto più kill quindi boh eh signori che dire ditemi come chiamare questa serie perché non lo so ma credo che opterò per un RTC signor RTC classico ditemi se vi piace ditemi che le presto dell'audio e nulla farò altri video magari anzi sicuramente cos'l'active e si fammi vedere quanto è stato promosso bloccato propulsione furtiva vabbè raga poi mi guardo tutti i bonus che ora non c'ho testa e buona CC mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non siete iscritti e commentate signori ciao ciao ciao